Ed eccoci di nuovo qui su Fumetterino Nere, oggi voglio dedicare un video a un volume unico, a una raccolta di storie brevi, di un mangaka di cui ho già parlato tantissime volte su questo canale. Sto parlando di Hideshino e oggi parleremo dello spetto di Rashomon. Bene, torniamo un attimo indietro, su questo canale potete trovare una puntata del podcast interamente dedicata a Hideshino e a tutte le letture che ho fatto fino a quel momento. Sapevo bene che In Your Face Comics, diciamo, nascondeva in realtà, aveva già pubblicizzato, comunque aveva in cantiere la pubblicazione di altri volumi unici, come effettivamente poi ha fatto. E quindi da quella puntata del podcast in avanti ho deciso di dedicare un video per ciascuna opera che In Your Face Comics pubblica di questo autore, in modo tale che si possa poi, diciamo, infilare quel video nuovo, sulla nuova uscita, all'interno del racconto che ho fatto nella puntata del podcast. Bene, oggi parleremo quindi dello spetto di Rashomon, che è una raccolta di sei capitoli, sei storie brevi, ed esattamente come è accaduto con La Donna delle Nevi, trae ispirazione per questi racconti dalle fiabe tradizionali giapponesi. La prefazione del solito Maurizio Ercole, che è poi anche il curatore editoriale di questa collana di In Your Face Comics, è, devo dire, molto più ampia del solito. Infatti, eccolo qua, all'inizio possiamo trovare una sua descrizione, anche capitolo per capitolo, di quello che troveremo all'interno del volume. Cioè, ci tiene a raccontarci ciascun capitolo da cosa ha tratto ispirazione de Shino, qual è il legame con le fiabe tradizionali giapponesi, qual è anche il legame con alcuni luoghi, eccetera, eccetera. Quindi, è molto più approfondito rispetto al solito, infatti, nei precedenti volumi trovavamo, come posso dire, una brevissima descrizione che fungeva poi da pubblicità, da, diciamo, era una motivazione per andare poi a leggere il contenuto del volume in questione. Ecco, invece qui non c'è solo questo lato di marketing, diciamo un po' così, dove si tentava di fomentare il lettore, ma c'è anche proprio una descrizione di quello che poi andremo a leggere. E come potete vedere, anche sul finale, c'è una postfazione molto 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 corposa, dura parecchie pagine, dove Maurizio Ercole racconta il legame che l'editoria italiana ha con tutto ciò che ha ispirato i de Shino. E quindi magari scopriamo che una determinata traduttrice o un determinato traduttore ha lavorato sulla traduzione di quella fiaba, scopriamo che quella fiaba è stata pubblicata nel volume X edito da Y, eccetera, eccetera. Quindi c'è veramente un'attenzione a 360 gradi per quello che riguarda l'ispirazione di tutti questi sei capitoli. E effettivamente, a questo punto di vista, è ineccepibile. Questo volume è anche molto più approfondito rispetto ai precedenti. Voglio però fare una piccola nota, cioè all'interno del volume troviamo infatti delle note a margine che raramente avevo visto in passato, io non me le ricordo, invece in questo volume sono abbastanza corpose. E che aiutano il lettore a contestualizzare, soprattutto geograficamente, alcuni luoghi che vengono citati all'interno di questo racconto. Perché sono magari dei luoghi che non hanno più quel nome, sono l'appellativo che veniva utilizzato mille anni fa per descrivere una determinata zona del Giappone. Adesso quel nome non viene più utilizzato e quindi la nota a margine serve a questo. Ecco, nella prefazione è come se ci si volesse un po' crogiolare in questo lavoro che è stato effettuato. Ecco, io non ho mai visto nessuno auto-incensarsi perché ha fatto un determinato lavoro di questo tipo come nota a margine nel volume. Ecco, questo mi è sembrato un po' strano. Per tutto il resto è stato molto interessante, ma qui arriviamo a un discorso. Il discorso che devo farvi e che vi faccio sempre su questo canale perché il mio gusto certamente pone un filtro durante la lettura di questi racconti. E il mio gusto, come vi ho già ripetuto tantissime volte, mi porta a non apprezzare chissà quanto queste storie molto legate al folcolore. Mi piacciono più le cose legate alla realtà, ecco. E qui invece, certamente, siccome sono delle fiabe, ci sono tutti i mostri tipici giapponesi. Tantissime cose che appartengono al folcolore giapponese e che non mi interessano più di tanto, ecco. Quindi già questo è un punto di partenza un po' difficile. Ma non solo. Come vi dicevo all'inizio, anche La Donna delle Nevi, un altro volume unico pubblicato dai Neuroface Comics, di Hideshino, ha diciamo un'ispirazione simile. Però io ho trovato una profondissima differenza. Cioè, lì c'era, era tangibile secondo me, una certa aulicità che qui assolutamente io non vedo. Lì potevo vedere anche il perché fosse una lettura adatta ad un pubblico adulto, mentre qui effettivamente riconosco che sono delle letture molto, molto, molto semplici. Forse troppo semplici, ancora più semplici rispetto a quello della Donna delle Nevi ed effettivamente non faccio fatica a immaginare che fossero delle pubblicazioni per un pubblico anche molto giovane. Ecco, qui non devo fare alcun sforzo per immaginare una cosa del genere. Tra l'altro, all'inizio di questo volume possiamo trovare l'indicazione che è stato pubblicato per la prima volta nel 1987 da Ibarishob. Ecco, è una pubblicazione anche abbastanza tarda per Hideshino perché, insomma, 87 e fine anni 80 vuol dire essere, vuol dire che questo volume è arrivato dopo tantissime altre che abbiamo già letto e di cui abbiamo già parlato anche su questo canale. Ecco, secondo me è forse una delle letture meno convincenti che ho fatto di Hideshino e non riesco effettivamente a passare dal contenuto dei redazionali all'esperienza della lettura. Provo a spiegarmi. Tantissime volte è normale, insomma, che una casa editrice faccia una certa pubblicità, che, insomma, gridi ai 420 quanto sia un capolavoro il volume che stanno per pubblicare. Sappiamo che alcune case editrice italiane sono veramente maestre nel far passare come capolavori delle sciocchezzuole alla fine, ma alla fine è giusto che sia così, è il loro ruolo. Però in questo caso non si tratta di gridare 420 quanto sia bello questo volume sui social in modo tale da tentare di acchiappare il lettore. Ma qui siamo già all'interno del volume, all'interno dei redazionali e devo dire che il curatore editoriale si è lasciato molto andare sulla bellezza di questo volume che io in realtà non sono riuscito a cogliere, non sono riuscito a comprendere e mi sono piaciuti tantissimo di più altri volumi che sono stati meno proclamati, meno gridati e questo, insomma, un po' mi ha scombussolato perché effettivamente è stata veramente una delle peggiori letture che ho fatto di Descino che poi sia sempre una lettura positiva, una lettura piacevole, una lettura veramente anche a scaccia pensieri, coinvolgente perché lo stile di Descino è sempre quello ed è veramente ancora attuale per il suo modo di raccontare la storia poi magari nel disegno qualcosa ti, anzi tante cose ti fanno intuire che siamo, che è una lettura pubblicata nel 1987 però per la leggibilità, la scorrevolezza è tantissimo attuale Descino e quindi, e poi a me piace come autore quindi sicuramente non è un'esperienza negativa e se amate Descino, se amate l'horror ve lo straconsiglio però, ecco, fra tutte le opere che sono state pubblicate di quest'autore, secondo me è tra le peggiori una cosa che caratterizza spesso questi racconti brevi di Descino è il finale tragico è una fiaba giapponese con tantissimi elementi del folklore ma il finale è quasi sempre tragico e non c'è mai una svolta positiva ed è perfettamente in linea con quanto abbiamo letto di Descino in tutte le altre opere ma sicuramente continua ad essere un po' un marchio di fabbrica che lo distanzia da altri autori altri generi, altre tipologie di storie come sempre, come spesso in realtà capita, forse non sempre ci sono un po' di pagine in bicromia, eccole qua le troviamo tutte quante in questo caso nell'opera, nel capitolo iniziale bellissima, ad esempio, questa pagina c'è ovviamente anche un'illustrazione a colori iniziale eccoci, l'indice immancabile a colori poi per il resto nelle altre storie non ci sono pagine a colori il numero di pagine dovrebbe essere poco inferiore alle 200 150 pagine di storia ma poi ce ne sono abbastanza di redazionali come vi ho già raccontato infine vi volevo mostrare un po' il recap che troviamo sempre alla fine dei volumi di In Your Face Comics con le pubblicazioni a nome di Shino eccoci qua, queste sono le ultime pubblicazioni che sono state fatte dai New York Face Comics con Insetti Infernali e Redona delle Nevi di cui vi ho già parlato su questo canale qua sotto invece ci sono le due che non sono ancora uscite Dara la Strega e Maschera di Morte e comunque non vedo l'ora di leggerle poi nella pagina successiva troviamo invece questi altri volumi che sono stati pubblicati un po' di tempo fa in parte infatti ve li ho raccontati all'interno della puntata del podcast sono sicuro di avervi parlato ad esempio di Red Snake, di Living Corpse, di Black Cat e di Onimbo di Mandala from Hell vi ho già parlato ma non mi ricordo se nella puntata del podcast o in un video a parte bene, direi che finisce qua questo mio racconto fatemi sapere voi che cosa ne pensate fra l'altro nella postfazione finale ci sono anche delle bellissime illustrazioni eccole bene, fatemi sapere voi che cosa ne pensate quindi di questa lettura intanto vi mostro anche il retro e la costina e fatemi sapere se la pensate più come me o più come il curatore editoriale che probabilmente stravede per quest'opera e io invece non sono magari riuscito a cogliere a 100% la bellezza di questo volume ripeto comunque che è stata una lettura molto molto piacevole fatemi sapere quindi voi che cosa ne pensate scrivetemi qui sotto nei commenti ci vediamo in una prossima puntata del podcast o in un prossimo video sempre qui su Fumetterino Nero a presto